Buongiorno, per caso avete dei guantoni da boxa? Certo, abbiamo tutto. Campagna elettorale, primo round. Proseguono le riunioni per definire il perimetro del ring elettorale. Enrico Letta con i suoi occhi della tigre affonda il primo gancio della giornata. Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere il governo Draghi, vogliamo sapere se coloro che hanno fatto cadere il governo Draghi l'hanno fatto su un mandato, l'hanno fatto su un mandato di una potenza straniera che oggi è una potenza che aggredisce e rispetto alla quale noi non possiamo avere buoni rapporti. Questo è un dato allarmante, abbiamo chiesto in Parlamento che venisse fatta immediatamente chiarezza su questo punto. Tra l'altro ci ha stupito anche che il Movimento 5 Stelle non abbia fatto la stessa richiesta in aula. Da destra schivano e rilanciano con un montante. Ma io direi che Letta deve guardarsi a casa sua che mi sembra che abbia molti più problemi rispetto a quelli che abbiamo noi sulle alleanze. Pum! E ora questa campagna elettorale su temi esoterici non si capisce a che serve. Tra l'altro è stata anche smentita da un'autorità di governo competente in materia, questa fanfaluca. Pum! Noi applichiamo la tecnica di Maywater perché segue il pugilato sa perfettamente che è imbattuto perché è bravissimo nella difesa da quello che faremo noi. Pum! Intanto Conte è impegnato nel suo match sotterraneo con Grillo sulle deroghe per l'eventuale terzo mandato. Presidente, ha sentito Grillo sulla... Ha sentito Grillo, allora? Sulla questione di mandare. Sì, è vero che l'ha fatto un ultimatum su... Ma no, ma no, abbiamo già smentito, non diciamo fesserie. Lasciateci lavorare, ma vi interessano i nostri programmi? Sì. Pum! Intanto Renzi e Calenda, che ha incontrato Carfagna, cercano di guadagnare il centro del ring. Credo che questa destra, che non ha più nulla di centro, purtroppo, si configura come una destra filorussa, trascinerebbe l'Italia dai grandi paesi europei, tra alleanze periferiche con Orban, con tutti i riflessi disastrosi economici e finanziari che questo porterebbe qui. Pum! Il settembre fanno violenza, box. Ah, ognuno mangia l'orecchio dell'altro, come Tyson. Ah, sì? Sì, sì. Nel ring del centro-destra inizia il match su candidature e collegi. Giorgia Meloni è entrata, sta iniziando in questo momento la direzione nazionale di Fratelli d'Italia. Buongiorno. No, ragazzi, non faccio il tempo perché sto a perdere l'aereo. Sono andata la direzione. Bene! È solo il primo round di un lungo incontro, finirà per KO o ai punti? Ciao! Grazie a tutti